Pace è il pensiero che assilla Bergoglio, anzitutto per la martoriata ucraina che soffre tanto, ripete Triste. I soldati giovani vanno a morire, preghiamo e preghiamo anche per Medio Oriente, per Gassa. Si soffre tanto lì nella guerra, per la pace fra Palestina e Israele, che siano due stati, liberi e con buoni rapporti. Udienza del mercoledì in piazza San Pietro. Ogni uomo ha nel cuore la capacità di cercare il bene, spiega Francesco. Il cristianesimo ha non sostituito ma valorizzato e purificato la sapienza antica e chi fa una montagna di bene solo però per esaltare se stesso. Può dirsi ancora una persona virtuosa? No, no. Attenzione perciò al veleno potente, della superbia, conclude il Papa. Quando io è al centro di tutto, il nostro io è al centro, se rovina tutto.